Adesso che cosa facciamo? Non siete confette? L'ora in poi a Natale sarete il farglie! Red Bull ti mette le ali! Ho qui davanti al mio posto sta la forza. Avete cambiato la persona molto importante. Votare qua la Leonardo. Di Caprio, Leonardo di Caprio. Di Caprio, con la O. Ma che cazzo avete combinato? Scambiato dai! Spiegazio le pente del vino di Caprio. Vi sono composti? Se si viene si passano, non so. Sta tranquillo, fidati là! Tu con questi che ci fai? Buono favore! Non è vero che già l'altro. E' un video! E' un video! Il video! It's fine Tchau